A pagina 38 della sua tesi manca la cosa più importante, il calcolo del coseno. E senza quello cosa faccio? La boccio subito? Via qua! La nuova calcolatrice scientifica di Canon ha ben 250 funzioni, un display LCD ampio a due righe e una doppia alimentazione. Ok, mi arrendo, sono da 110 elole. Ma cosa avete capito? Non le vostre tesi, le soluzioni Canon.